Dobbiamo dire sì anche se con qualche purtroppo perché purtroppo dopo tanti mesi, circa 20 mesi che quella strada è stata chiusa e che ha creato non poche difficoltà e disagi ai residenti, domani la riapriamo alla circolazione. La riapriamo in una forma anche ridotta se vogliamo, cioè non completa, ma non potevamo non ascoltare i cittadini che lamentavano queste difficoltà. La riapriamo senza aver completato l'impianto di illuminazione e altri lavori, ma riteniamo di assoluta necessità ripristinare un traffico veicolare in quell'area per quei cittadini che altrimenti sono stati costretti per 20 mesi a fare lunghi giri per recarsi al posto di lavoro, alla scuola o per vivere una vita normale. A proposito di strade, da pochi giorni ha riaperto Corso Vittorio Emanuele, qual è il primissimo consuntivo dell'amministrazione comunale? Direi molto buono, oltre ogni previsione perché tutti si aspettavano chissà quali cataclismi, caos e quant'altro. La realtà è, come avevamo previsto anche sotto tono, che quella strada rappresenta un collegamento importante di trasferimento che ha sgravato già via De Gasperi e la rotatoria di via Teramo. Non è completa, certamente perché bisogna fare ancora altri lavori per eliminare la controstrada che sbocca su Piazza della Repubblica. Ed è lì l'unico neo di questa ripristinata viabilità. Appena superato anche quel problema, sicuramente tutto tornerà in maniera molto lineare, molto tranquilla, con una mobilità che sicuramente non è nuova, ma è una mobilità che bisogna migliorare l'interesse della collettività sotto l'aspetto ambientale e quant'altro. Però i risultati sono sotto gli occhi di tutti. Una settimana non ha compromesso nessuno nelle attività, nei soggetti che vi abitano e anche oggi è chiusa, come abbiamo detto sin dall'inizio, che nei fine settimana e nelle giornate festive sarà una isola pedonale per poter consentire e favorire lo shopping.